Il Venezia è riuscito a tornare nell'elite del calcio italiano dopo alcuni anni in Serie B. L'ultima volta che il Venezia è stato in Serie A è stata nella stagione 2021-2022. Ora, il club di Venezia sta costruendo una squadra competitiva per, almeno, rimanere nella massima divisione. Per questo motivo, il Venezia sta cercando un giocatore della Juventus che ha avuto buoni momenti nella scorsa stagione a Torino. Hans Nicolussi, che ha giocato dieci partite tra Campionato e Coppa Italia con la Juventus, potrebbe presto diventare un giocatore del Venezia. La Juventus non ha chiuso le porte alla vendita di Hans Nicolussi. Tuttavia, la Juve valuta il giocatore intorno ai 10 milioni di euro. Vedremo se il Venezia è disposto a pagare tale cifra.